Ospitalità, accoglienza, gentilezza, condivisione, vicinanza, valori che ci avete fatto sentire appieno nel nostro storico esordio nel professionismo. Rimarrà per sempre riconoscenza, gratitudine e una fratellanza sportiva incancellabile nei vostri confronti. Con queste parole il presidente Rosso Blu Morizio Puglisi ha voluto ringraziare la città di Pagani, il suo sindaco e il presidente della squadra di calcio locale. Facciamo un passo indietro. Dopo aver vinto lo scorso anno il camionato di Serie D, la Gelsen aveva bisogno di un campo dove poter giocare il camionato di Serie C, non essendo il Giovanni Morra di Vallo della Lucania adibito ad ospitare partite di calcio professionistico. Tutto il Cilento, l'unico stadio che si sarebbe potuto utilizzare per la Lega Pro, svolgendo però prima una serie di lavori di adeguamento, era il Raffaele Guariglia di Agropoli. Trovare l'accordo con il sindaco di Agropoli Roberto Mutali Passi e con il presidente dell'Unione Sportiva Agropoli Carmelo Infante è stata una formalità, anche perché la società Rosso Blu si è accollata a tutte le spese di restauro e di riqualificazione dell'impianto, una cifra che giri intorno ai 170.000 euro. Ma i lavori necessitano di tempo e quindi bisognava trovare uno stadio disposto a ospitare il Rosso Blu nelle prime partite di campionato. L'accordo trovato con la Z Picerno è saltato all'ultimo momento, in quanto i dirigenti lucani, quando si è trattato di mettere nero su bianco, hanno cambiato le carte in tavola e di fronte alla nuova cifra richiesta, Puglisi giustamente ha fatto saltare tutto. Poi con la Turris c'era l'accordo con il presidente del club Antonio Colantonio, ma il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha bloccato tutto. Insomma, quasi un galvario prima di Pagani. Nello stadio inditolato a Marcello Torre, sindaco della città ucciso nel 1980 dalla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, la Gerbson ha disputato nove partite, ottenendo tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Adesso il passaggio ad Agropoli. Nei giorni scorsi è arrivato l'ok della prefettura. Il guariglia è ora adibito per aspitare partiti di calcio professionistico. Sabato il debutto della Gerbson nel nuovo campo, nella sfida con il Monopoli in programma per le ore 14.30. Grazie. Grazie.